non pisciamo fuori dal vaso a presto ciao primo ieri hai detto che hai suonato con il direttore quando io adoro questa band da sempre perché è sempre coerente un metal che spacca grande band valerio e dal vivo sono ancora meglio che sul disco grande band grande band e poi sono delle persone eccezionali proprio allora andiamo a trovare i nostri amici su face views ci sei bello non pensi sia una vergogna che una pippa come slash vada a sostituire il grande nome al corso metal li ho pagato per vedere flex alba non ozie e fred cosa ne pensi del battaglia dei cannibal corps orso bruno ma quello che dico io ma perché non mi fate restituire i soldi del biglietto quello che dico io perché vi è prestata a questa pagliacciata che si era inventata la moglie di ozzy buona pure quella che l'ha costretta a fare a fare entrare mtv in casa a far vedere che famiglia di merda già jack ci scrive il dottor chemico ciao pino hai sentito il monte premi di x factor america 5 milioni di dollari 10 miliardi del vecchio conio io prendo 40 centesimi al quintale a scaricare l'aglio in nero che sprechi di bel grange 10 milioni di dollari 10 milioni di dollari 10 milioni di dollari